ciao ragazzi qui è rm pokemon tcg in compagnia di darkjack 8 e non vi potete sbagliare lascio il link in descrizione perché dovete registrarvi come siamo a dire tra virgolette iscrivervi e prego dovere anzi e qui abbiamo il davanti a me il box di ex guardiari di cristalli il quale andremo ad aprire subito le bustine quelle qui facciamo vedere come sempre le quattro e quattro disegni sui fronti delle bustine un girashi bravo grande e grazie poi blazicherno un bellissimo c'è arizard è un del catti esattamente ok incominciamo con la più stupida dalla più stupida fammi indovinare è un del catti vuole leggere il confronto con due starter discriminato proprio chi ci sente ci va pure la querela va bene noi iniziamo abbaccuto però non otterrei la sensibilità di qualcuna si esattamente cominciamo allora purtroppo non ho potuto salvarsi perché non l'ho messo aperto con la massima attenzione con il presente il nostro moltres ex il tuo ex moltres ex perché ora è mio crobat è mio crobat cristal grande allora cominciamo ci vedi si urbasaur no ivisaur non l'avevo visto avevo visto qualcosa l'avevo visto un pochino di meno sulla schiena si in effetti ti poteva trarre ringanno perché non hai messo di profilo e si allora ragazzi ricordatevi che io vedo inclinato si infatti non è non vede dritto dritto per dritto aspetta devo alza il volume perché se non si sente tanto prova si si ti senti io mi sento anche no ora non mi sento più da solo ok mo ti senti però ora no normale ah ok detto ciò ivisaur tempesta di vento tempesta di vento reverse spiaggia dei cristalli bellissimo la rara mediciam cacnea mamma mia questo è bellissimo charmander specie delta magari trovare quello tu vuole con l'olu io sì con l'olu mi piace di più vabbè certo non c'è confronto wingle e sidot e sidot prossimo pacchetto se la legge è giusta dovresti trovare l'evoluzione dell'ultimo che hai trovato nel pacchetto quindi uno shift 3 ex perché se non sbaglio ci sta in questo set sì sì quello con braccialame che leva 70 grande mi stupisci ogni giorno che passa ho un minuto in questo caso t'ho salvato il pacchetto grazie allora l'ombre charmelion qui la cosa mi puzza si trovava e la reverse un bellissimo swampert scaglia i pietri 60 questo attacco non è influenzato da resistenza e tutte se lo sa vabbè dai sì mi stai dando una lezione mi stai il set e sto per completare quindi non li devo sapere per forza a memoria me li guardo e me li riguardo mi sto dando delle lezioni di vita che tu non puoi immaginare allora come detto swampert reverse che è raro l'outred oh l'outred l'outred stiamo di trovare explode quello è mio eh sì lo so però trigo ci spero mad keep torchic vabbè qui vado rapido tanto sono i comuni quindi le vedremo spesso numel e diglet a diglet può usare sabbiotomba mi sembra sabbiotomba sì il difensore il pokemon difensore non può ritirarsi durante il prossimo turno il prossimo pacchetto glaziken belle queste bustine color celeste siamo salvato malapena si è aperto male ma non so perché vabbè dai passiamo allora al prossimo sì tanti speriamo di trovarci qualcosa di buono l'importante è questo bravo oh i bisauro di nuovo sì e stavolta i bisauro non sei il bulbasauri i bisauro esattamente l'ombre wing all reverse wing all reverse la rara e la rara è un ludicolo ludicolo fuoco pugno 60 sii cazzarola specie delta quindi questo essendo olu dove va a finire? ehm certo ecco oggi siamo anche in compagnia di mboar o mboar si? dove è? eccolo qua la miniatura che si trova nei tin ah ok ho detto poi quando arriverei su quella spazio ti posso dire che quello dico là pure che mi sembra un attack che si chiama privazione si c'ha tre attacchi c'ha pure tracca tre attacchi due attacchi con poche body super zelo no quello arano me lo ricordavo io calcolo gli attacchi allora passiamo al prossimo vabbè qui facciamo vedere i comuni che è l'hectraic l'otad ah non ho visto che c'ha pure il comuni meditai da noi non importa ricerca di energia e aaron ecco qua pacchetto di charizard incrociamo le dita sto morendo di questo pacchetto lo gira lo gira verso di me le dico io le carte va benissimo si che stiamo con la con la saspers allora parola a darkjack 8 allora però come faccio tu non devi guardare tu devi solamente girare le carte una a una appena le dico allora ci vedi così si tucci tu non stai guardando vero no mi sono girato dall'altra parte allora chi è? suolot no nu slif la rara o cacchio chi è? venusauro ah buono è rara cos'è holo? no è rara ah è rara però intanto se ci permetti ha un attacco che a me piace sinceramente qual è? sonnotossina sonnotossina che addirittura gli metti due segni di danno tra un turno e l'altro si esattamente è sonnotossina che basta tre energie servono intanto però gli metti quelli di danni ogni turno si due segnalini danno metti infatti allora possiamo passare avanti vediamo attrico numel pozione magica wismur e spirov vabbè dai cioè capitando un metosauro mi sento un pochino ringuambrato e potrebbe capitare qualcosa di apposta speriamo incrociamo dei piedi di tutto incrociamo tutte le vite possibili ahahah queste però si aprono mali tutte quante pure se uno ci si impegna peggio dei destini futuri non esiste però stanno sulla stessa nave sulla stessa barca allora doppio recupero totale grovail grovail kombusken kombusken che è non comune un altro kombusken che è raro calcio volante si che brutto non si può vedere lo so intanto però serve dei plaziken delta special eh si ah qua aspetta no qualche delta special scusa perdonami quello la di rotta c'è sta su che è holu? ehm che io non lo conosco questo qua è solo così solo normale per quello che so io è solo normale poi c'è la versione quella la che c'hanno tutti che c'è scritto il nome x guadagnia dei cristalli ah ok reverse ok squirtle crebby mad keep dusk dusk e lautad pacchetto facciamo un altro charizard ci pensi tu? mi sento sì mi sento nel momento di aprirlo io mentalmente secondo me c'è un charizard so tu girati ok allora vado eh allora questo qua è un addestramento che non vedo lo vuoi guardare tu si vede aspetta alza alza sotto aspetta ah sì 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 bacca memoria bacca memoria bacca memoria bacca memoria questo qua è pokeball mi sembra sì crebby crebby reverse qualcosa del genere attenzione piano 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 devo non guardare oh cacchio oh cacchio guarda guarda che metti in buscina no non ce credo one per te ex subito immediatamente buscina mazza oh porta bene charizard te lo sentivi dì la verità te lo sentivo te lo sentivo ahahah e ti dico che per l'altra questa qua ce l'ho però non ce l'ho materialmente tra le mani beh tu come hai detto ce le tutte ti manca soltanto explode ci manca soltanto explode non lo so intanto questa è bellissima ci vale veramente ci vale veramente bella bella proprio fammela vedere pure a me la conosco ultraponda però è abbastanza bella come ce l'hai tu in condizioni mie mind o usata no la mia usata ma ma sono io che ho queste carte così perfette aspetta eh vado a far vedere ok guarda un po' che c'è stava poi mudgip bellissimo diglett bulbasaur eccolo finalmente è uscito anche lui allo scoperto e charmander e aaron vabbè ce l'abbiamo 2000 possiamo anche buttarlo prossimo pacchetto stiamo a 10 minuti eh 11 minuti eh sì andiamo ora vai sì sì che perché ho il braccio sul computer e scorta e di conseguenza mi sto scaldando anch'io sto sudando ecco in poche parole allora warthortle warthortle pala doppia oh blastoise reverse bello proprio blastoise spettacolato questo non è holo vero? no perché è la b no 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 è holo è holo foil quando ce l'ha sulla cosa quando c'è sulla figura e poi è specie delta se non vado errato lo specie delta è quello ce l'ho io ed è di lotta se non sbaglio si esatto lotta e acciaio si poi igli duffo se non mi sbaglio ha un attacco che dovrebbe essere idropompa sempre questo si c'è una idropompa che è del 50 più 50 più vabbè come al sole la pacco di linda stesso lumbasaur bellissimo Torchic Spoink Wingull e numel questo è il penultimo pacchetto certo come a ex del drago eh i primi 9 pacchetti subito una ex non ci possiamo lamentare no no non ci puoi dire soprattutto Swampert è uno degli star si bellissimo io mi ricordo a che era a Smeraldo lo sceglievo sempre perché Blaziken chi altro c'era? non mi ricordo mai Blaziken ah eh 3 cosa Sheptile si si eh non mi piacciono molto lo riesco Swampert Grovile parliamo di Sheptile si si spuntano il Grovile Gulpin Aaron Reverse Mashstamp Raro Wingull io ho sempre il pensiero ma vedranno le carte perché io le tengo talmente alzate vabbè sentiranno Duskol Aaron Charmander e Electrike ottimo pacchetto con senza capire io di nuovo con la discriminata vai io apro e tu guardi prima le carte no non ce l'ho non ce l'ho prende nessuno se dico cazzo mia del lochitti vero? no non muovi di perché mo non lo so ma il discreto io ho visto che questo che è discriminante che è lochitti vero? vabbè sorvoliamo guarda un po' vediamo è che che è lochitto è lo tecnico e poi dico brutte parole perdonate per la brutta parola ma poi quando quando me la chiamano me la chiamano puraccia è pure discriminato sto pokemon eh lo so va bene segnando così vai eh vai tu eh vai 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 martorto 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 svalot di nuovo mi sembra sì ho gulpin cos'è è gulpin si c'aveva una mano davanti scusate prima ho sbagliato perché l'avevo chiamato svalot perdonate quindi gulpin è rara eh load disk ora holo? vabbè meglio di niente questo penso l'ho venduto insieme al blocco di 30 carte holo se vedi su youtube se su webbay su webbay si si l'ho notato l'ho venduto per 9,50 euro non è che nessuno le voleva alla fine che ce faccio l'ho venduto vabbè quanti ne hai di questi? di questi ne ho uno solo non l'avevo venduto perché? non avevo ancora comprato il box comunque ho comprato il box e l'ho ritrovato per fortuna per mia fortuna ho capito ma come funziona? scusa eh questo è reverse? ah perché questo è specie perché quello è detta specie si scusate detta specie hanno pure la cosa sui bordi si 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 l'argentatù si infatti vabbè finiamo qui a cotrico electric sidot mudgip e meditite meditite detto ciò piccolo riepilogo come sempre partiamo dalla dalla come si chiama qui? dalla holo specie delta non mi viene di dire delta specie perché ho visto sempre quei video su youtube in inglese vabbè judicolo luvdisk holo e swampert x che è bellissimo si si assolutamente io non mi devo lamentare perché qui meglio di così non potevo andare come inizio detto ciò come sempre ringraziamo voi che mi ha fatto compagnia grazie e rm pokemon tcg vi saluta vi manda alla seconda parte e che altro? niente un saluto a tutti grazie per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao ragazzi